Grazie tantissimo delle mail, dei messaggi che mi state mandando, vi ringrazio con tutto il mio cuore e appunto perché c'è questa richiesta lo rifaccio un'altra volta e lo so, è impressionante ragazzi prima cosa, scusate, tutte carte regolari, io uso solo carte regolari, odio le cose truccate, questa è una mia prerogativa qui c'è tanto veramente mentalismo ragazzi, realmente si usa la mente, non è un gioco di prestigio le carte vanno mescolate, quante volte vogliamo, nessun problema io guardo voi, prendo una carta libera, questa, si vede, dentro, chiusa, e si mescola quante volte vogliamo, ok? potete tagliare, ancora una volta, quindi nessuno può sapere al mondo intero dov'è la carta qua si va a sensazione ragazzi, non sto scherzando è noto che prendo le carte da sopra, non pensate che faccio altre mosse strane lo semplice non sto scherzando Grazie a tutti.